Infosecurity 2015, 20 anni di Infosecurity a Londra, l'evento sulla sicurezza informatica più importante al mondo. Andiamo un po' in giro. Infosecurity 2015, 20 anni di Infosecurity a Londra, 20 anni del salone sulla sicurezza informatica più famosa, più importante al mondo, che attrae più di 300 espositori. La creatività qua non manca di certo. Ci sono degli stand dove, come in questo caso, ci sono personaggi che passano vestiti da astruzzi e altri che, come in questo caso, passano il tempo a dire che stanno combattendo contro gli alieni. Comunque la questione della sicurezza e soprattutto della difesa dagli attacchi di virus, malware e compagnia è diventata una follia. È una follia nel senso che da una parte le aziende non sono in grado di proteggersi, non sono conscie del pericolo che corrono, dall'altra parte chi propone tecnologie valide a difendere le aziende sta cercando la strada per comunicarla in maniera corretta. Da una parte ci sono azimati signori che sciorinano dati, dall'altra ci sono personaggi che raccontano di essere gli eroi del contro-cyberterrorismo. uno spettacolo. Qualificare il rischio, definire il rischio. Qualificare il rischio sembra essere il business di molte aziende, definire qual è il rischio e identificare. Però mi pare che l'approccio di molte aziende riguardo alla sicurezza degli attacchi sia sulla difensiva, non sia qualcosa di originale come forse un utente vorrebbe. Qualche cosa che fosse veramente una sara chinesca che chiude la porta agli attacchi malintenzionati. Ci sono enormi aziende che fanno il mestiere dell'assessment del rischio, della definizione dei malware e dell'inventario dei possibili malware. Io francamente la raccolta dei malware non la vorrei fare se avessi del tempo da perdere. Però capisco anche che quello che devi fare per primo è definire il livello di insicurezza che c'è in questo momento in giro per poter scalare i tieni alti, andare dove si allargano i cordoni della borsa e dove si decide di investire.